Buongiorno a tutti, allora, delibera di giunta municipale alla numero 75 del 5 di marzo 2015, concessione e patrocinio gratuito all'associazione Moody Factory per la realizzazione del progetto dal titolo Obiettivo Musica. Ora, comunque vi voglio ricordare che ad Alcamo abbiamo già due scuole medie ad indirizzo musicale, in più l'istituto Vito Fazza Almayer, che è già il liceo a livello musicale, e in più la banda musicale di Alcamo. Va bene, qui naturalmente il legale rappresentante, come nelle altre delibere, non c'è e non si capisce perché. E allora si concede il patrocinio, eccetera, eccetera. Ora, io ho il comunicato stampa del 10 marzo 2015, Obiettivo Musica, progetto scolastico per la diffusione della cultura musicale. Anche in questo caso, in questo senso, l'amministrazione comunale predica bene ma arrazzola male. Vi ricordate che vi avevo letto la storia della banda musicale, esattamente chiamato, premiato, complesso bandistico città di Alcamo. Ebbene, quest'anno non è stato ancora dato il contributo annuale alla banda musicale perché non ci sono soldi. Badate bene che la banda musicale non è un'associazione privata, ma è la banda musicale dei cittadini alcamesi. Quindi il contributo è dovuto per legge. Infatti esiste un regolamento approvato e inseduto a consigliare. Il primo addirittura risale al 14 luglio 1880, avete sentito bene, 1880. E l'ultima delibere del Consiglio Comunale è del 14 febbraio 1997, il numero 20. Mi pare che la costituzione della banda aveva lo scopo di promuovere divulgazione a titolo gratuito della cultura musicale, come dice l'assessore Selene. A questo proposito vi leggo alcuni articoli che vi fanno capire che non si tratta di un'associazione privata. Sentite bene. Quindi non è un'associazione privata, ma è un bene nostro e come tale va salvaguardato. Non si è dato il contributo perché non ci sono soldi, ma per il secondo memoria di caccia, l'associazione calcistica, l'amministrazione comunale ha speso 6.000 euro. E vi ho detto a cosa sono serviti. Intanto 3.000 euro sono serviti per i pulmi, andate in ritorno, sono andati in America. È una vergogna che poi vi riempite la bocca con belle parole, che sono vuote di significato. E non hanno rispetto e non fanno rivivere le tradizioni come l'amministrazione comunale ci vuole fare credere. E allora sentite le parole dell'amministrazione comunale quando ha dato il contributo al complesso bandistico. Considerato che il premiato complesso bandistico opera esclusivamente per il perseguimento di pubblico interesse. Queste sono parole dell'amministrazione comunale. Dimostrando continuità nell'impegno e costanta qualità dell'attività svolta in perfetta armonia con il fine di tutela del patrimonio storico, culturale, nonché delle tradizioni popolari del territorio. Considerato, sempre parole dell'amministrazione, che per espressa volontà dell'amministrazione comunale, occorre contribuire per assicurare un regolare funzionamento della banda musicale, in considerazione delle finalità d'ordine educativo e culturale e patriottico, come previsto dal regolamento del complesso bandistico banda musicale della città di Alcama e del vigente regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento e l'attività. Considerazione che l'amministrazione comunale vuole sostenere l'attività svolta dal premiato complesso bandistico anche per l'anno 2013, poiché quest'ultimo, oltre a consolidare la tradizione religiosa e florcoristica della città, proietta i giovani all'educazione e all'arte della musica attraverso la frequenza dell'apposita scuola, svolgendo pertanto un ruolo determinante per la formazione musicale, nonché di promozione dell'attività di studio, di ricerca, di sperimentazione nel campo della musica. Dato atto che l'amministrazione comunale intende la diffusione della musica attraverso l'attività del premiato complesso bandistico come fattore di sviluppo e di integrazione sociale e culturale. Dato atto che tra i compiti istituzionali dell'amministrazione dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi vi è proprio la gestione, promozione e tutela delle tradizioni della cultura popolare, nonché la promozione di attività culturale, ritenuto, eccetera, eccetera. Ora, cos'altro dire? Io concludo con un proverbio. Insomma, avete quattro facce come Luca Scavallo. Non ci sono soldi per il calcio, 6.000 euro, che poi sono 3.000 per il Pullman, poi 1.440 per la cena lì in Piazza Ciullo, in più 1.040 euro per fesserie da regalare, eccetera, eccetera. Sono 6.000 euro e qui non ci sono 6.000 euro, non ci sono soldi che sono dovuti per forza. E allora vi leggo anche il regolamento. È istituito nella città di Alcamo il complesso bandistico città di Alcamo, che potrà freggiarsi del titolo di premiato da anteporre al nome distintivo. Secondo, il complesso bandistico città di Alcamo è composto da cittadini residenti in Alcamo. Per essere ammessi a fare parte della banda musicale tutti i cittadini interessati, potranno presentare istanza in carta libera al sindaco, in cui si è specificato il tipo di strumento da suonare e i dati personali. Quindi se uno deve fare domanda al sindaco per entrare nella banda musicale, che significa che la banda musicale è di proprietà degli Alcamesi. Poi i cittadini che avranno presentato istanza saranno ammessi ad una scuola musicale diretta da un maestro di musica della banda. Saranno messi a disposizione degli allievi lo strumento musicale confacente. La frequenza della scuola è attito gratuito, quindi il comune dà addirittura gli strumenti, le divise e la sede. Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad una selezione da parte della commissione composta dal maestro di musica, dal presidente della banda, dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale, saranno ammessi a fare parte della banda musicale fino al compimento dell'organico che non dovrà essere inferiore a 50 elementi. Poi la banda non ha scopo di lucro, ma quello di mantenere vivo l'amore per la musica. Ai musici che faranno parte della banda musicale sarà corrisposto un premio presenza che dovrà tenere conto della partecipazione sia alle prove che alle sfilate e ai concerti. Alla scuola musicale di cui è l'articolo 4 potranno essere ammesse allievi minorenni previ all'autorizzazione da parte del genitore di chi ne fa le veci. Da parte di ogni allievo e di ogni componente della banda, all'atto della consegna dello strumento musicale di partinenza, dovrà essere fermata una dichiarazione di presa in carica e custodia con l'obbligo della perfetta manutenzione, pulizia ed efficienza dello strumento e con impegno a restituirlo, a semplice richiesta del Presidente. Ancora, il maestro di musica verrà incaricato dall'amministrazione comunale nelle forme dovute per leggi, periodi, modalità e compensi saranno stabiliti di volta in volta nell'atto che si andrà a stipulare. Il maestro ha l'obbligo di istruire gli allievi della scuola musicale ed essere presente a dirigere le attività di studio e di prova della banda e per quanto necessario. Per la istruzione degli allievi potrà avvalersi della collaborazione dei musici diplomati o diplomanti che già fanno parte della banda musicale. Di fatto il maestro è stato licenziato, era il maestro Testa e quindi adesso non c'è più un maestro, ma ci sono questi allievi diplomati che fanno parte della stessa banda musicale. Per ordine del Sindaco, d'accordo con il Presidente, potranno avere luogo altri servizi al di fuori del programma concordato tra il maestro di musica e il Presidente. Il maestro ha l'obbligo di realizzare intrattenimenti musicali gratuiti a richiesta del Sindaco, quindi il Sindaco può dire andate qua, andate là e tutto il resto. È proibito ai musici ad operare la divisa per uso personale. Il musico ha il dovere di rispettare la propria divisa che in caso di abbandono volontario dovrà restituirla in buono stato all'amministrazione. Quindi come vedete il premiato complesso bandistico città di Alcamo è rappresentato legalmente dal Presidente che viene nominato dal Sindaco. Infatti io qui ho la nomina del Sindaco per il Presidente della banda musicale che è a carattere gratuito, a titolo gratuito. Quindi voglio dire che cavolo di bisogno c'è di dire adesso c'è un progetto per eccetera eccetera. Tutti i ragazzi alcamesi sia delle scuole media a indirizzo musicale che alla scuola superiore già fanno musica di per sé. In più c'è la banda musicale. Però voglio dire possiamo avere tutte le associazioni che vogliamo ma la banda o meglio il premiato complesso bandistico città di Alcamo premiato con medaglia d'oro. C'è stata una gara tra tutte le bande della Sicilia e la città di Alcamo ha vinto col suo complesso bandistico che è di proprietà dei cittadini alcamesi. E insisto proprietà dei cittadini alcamesi. Non può essere un'associazione privata e non è né una Ollus né niente. Quindi l'amministrazione diciamo comunale è pregata di andare a cercare i soldi e di pagare la banda musicale. Vergogna! Va bene. Mi dispiace il dottore mi ha detto che non mi debbo alterare però quando ci vuole ci vuole. Vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione e ci risentiremo la prossima volta.